buongiorno a tutti quanti benvenuti a questo appuntamento oramai diventato un appuntamento mensile nel quale andiamo ad analizzare il cambio franco svizzero contro euro per capire se è un momento buono per cambiare il nostro stipendio oppure è meglio aspettare io sono luca discacciati di cambiavalute.ch fatemi condividere subito il mio schermo così da farvi vedere esattamente tutte le cose che vedremo oggi per capire appunto quali saranno i movimenti futuri del nostro amico franco svizzero prima di iniziare ad analizzare i grafici ad analizzare un po i dati e le statistiche fatemi ricordare che su cambiavalute.ch potete trovare la pagina promo ecco qui vi basterà cliccare e al momento abbiamo attive due promozioni presentaci una ditta se ci presentate la vostra ditta in cui lavorate oppure un'altra ditta ricevete fino 500 franchi e invece potete anche presentarci molto semplicemente un amico un vostro collega che magari ancora non usa il nostro servizio ed entrambi riceverete 25 franchi tra l'altro vi faccio notare che dall'interno appunto del sito di cambiavalute dove fisicamente poi c'è il vostro profilo e fatti i cambi c'è il tastino invita i tuoi amici e guadagna con questo tasto riuscirete in automatico a condividere per esempio con un messaggio whatsapp comodissimo il nostro link al quale collegato direttamente il vostro codice che in automatico appunto vi farà ricevere il premio in denaro qualora appunto la presentazione dell'amico andasse a buon fine ma andiamo subito sul grafico di chf euro quindi da oggi riusciamo a vedere non il cambio ribaltato quindi non euro franco svizzero come abbiamo sempre visto in questo in questo appuntamento ma chf euro così proprio è esattamente il cambio che poi andiamo ad utilizzare per cambiare il nostro stipendio e la cosa appunto interessante da vedere subito è la stagionalità per chi ancora non lo sapesse per chi non avesse mai visto un nostro webinar che cos'è la stagionalità molto semplicemente abbiamo preso l'andamento del cambio franco svizzero contro euro da gennaio lo vediamo qui da gennaio fino a dicembre per il 2023 il 2022 2021 il 2020 e il 2019 infatti vedete cinque anni qua di stagionalità e abbiamo fatto una semplice media facendo una media di questi grafici appunto di questi andamenti annuali riusciamo a vedere se all'interno dell'anno ci sono periodi in cui si presenta statisticamente parlando una tendenza piuttosto che l'altra quindi se ci sono dei momenti in cui è più probabile che il franco svizzero salga o scenda rispetto all'euro molto interessante perché di default su questo appunto programma che utilizziamo che si chiama forecaster.biz che fa tante altre cose ma oggi ci concentriamo sul sul franco svizzero possiamo aggiungere anche per esempio gli ultimi dieci anni per avere una statistica più completa è quello che vediamo è qualcosa di molto interessante perché dopo appunto ce lo aspettavamo l'abbiamo detto nei precedenti appuntamenti un periodo in cui il franco svizzero si è deprezzato e sceso nei confronti dell'euro è iniziato proprio di recente da qualche giorno un periodo estremamente interessante per il franco svizzero perché vediamo che se andiamo a selezionare questo periodo ovvero praticamente da oggi fino alla metà di agosto ci accorgiamo appunto che in passato questo in queste specifiche date tendenzialmente il franco svizzero è sempre salito infatti vediamo appunto che negli ultimi cinque anni bene il cento per cento delle volte abbiamo avuto un andamento positivo per il franco svizzero in queste date con un guadagno medio del 2.8 per cento che è parecchio negli ultimi dieci anni l'ottanta per cento delle volte l'ottanta per cento degli ultimi dieci anni appunto franco svizzero in queste specifiche date è salito guadagnando il 2.2 quindi molto interessante perché appunto i nostri amici frontalieri si chiedono sempre se è giusto cambiare adesso se è il momento corretto di cambiare oppure no in questo caso lo dico un po' contro anche le gli interessi di cambiavalute ma se potete aspettare a cambiare sarebbe meglio perché è probabile appunto che i prezzi del franco svizzero continuino a salire fino ad agosto inoltrato proprio perché storicamente è qualcosa che appunto è successo con delle probabilità molto molto alte tra l'altro vediamo una cosa interessante vediamo che il franco svizzero è tornato ad apprezzarsi praticamente dagli ultimi giorni di maggio e se vediamo è una settimana in anticipo rispetto alla stagionalità che si è avuta negli ultimi dieci anni quindi appunto diciamo che se non avete fretta se non dovete cambiare il vostro stipendio perché dovete dare da mangiare ai vostri figli in italia diciamo che il periodo quantomeno statisticamente parlando per cambiare meglio il vostro stipendio in franchi svizzeri e passarlo in euro sarà la prima decade di agosto proprio perché abbiamo di fronte a noi un periodo dove proprio anche a occhio nudo si vede che la tendenza per il franco svizzero è sempre stata è nella gran parte nella maggior parte dei casi stata rialzista quindi molto molto interessante ci avviamo verso un periodo in cui appunto il franco svizzero dovrebbe tornare ad apprezzarsi dovrebbe tornare ad apprezzarsi quanto diciamo che le probabilità sono abbastanza alte che appunto il franco svizzero torni sui massimi storici quantomeno quindi diciamo che un ritorno ai livelli di gennaio 2024 è assolutamente plausibile se andiamo a visitare oltre la sezione stagionalità anche questa sezione che si chiama overboot oversold è una sezione senza entrare in tecnicismi molto statistica diciamo vediamo una cosa molto interessante infatti qui abbiamo un indicatore molto interessante che si chiama indicatore speed che senza entrare in tecnicismi calcola proprio la velocità del prezzo del franco svizzero che cosa ci dice questo indicatore ci ha avvisato di una cosa estremamente interessante che conferma la visione rialzista sul franco svizzero che ci dà la stagionalità infatti nonostante negli ultimi tre mesi il prezzo del franco svizzero sia sceso come vediamo qua questo indicatore ha letteralmente cambiato direzione e sta iniziando invece a salire questo cosa vuol dire vuol dire che abbiamo una divergenza tra i prezzi del franco svizzero e l'indicatore abbiamo un momento in cui appunto i prezzi stanno facendo una cosa e l'indicatore ne fa un'altra questo è un momento tipico in cui si sviluppano le inversioni di tendenza proprio perché è come se la velocità con cui il franco svizzero ha segnato questo questo questa discesa sia diminuita rispetto alla discesa precedente e questo è qualcosa che succede sempre prima appunto di un'inversione di tendenza un pochettino come quando in macchina ci approcciamo ad una curva e chiaramente prima di entrare nella curva si rallenta perché altrimenti ci cappotteremmo ecco più o meno il senso è questo e qui lo vediamo proprio bene perché tra l'altro appunto l'indicatore è anche tornato nel quadrante positivo nella al di sopra dello zero cosa che ci dà una conferma appunto che c'è stata questa inversione di tendenza e che presumibilmente i prezzi potranno tornare su questi massimi storici appunto che sono il livello che sta di fatto attirando i prezzi al a sé in qualche modo grazie sempre al forecaster possiamo andare ad analizzare il cot report il cot report è molto semplicemente un report che viene pubblicato dalla cftc commission americana la commodity future and trading commission che tutte le settimane riporta al pubblico che siamo noi appunto quelle che sono le posizioni degli investitori istituzionali noi possiamo sapere se per esempio i managed money piuttosto che gli swap dealer insomma tutti i big del mercato stanno comprando o vendendo uno strumento finanziario in particolare e questo report serve proprio lo dicono proprio sul sito ad aiutare il pubblico a capire le dinamiche del mercato ovviamente messo sotto questa sotto questa forma non è molto friendly user friendly quindi noi che cosa abbiamo fatto con questo software appunto forecaster l'abbiamo messo e l'abbiamo l'abbiamo visualizzato in modo tale che sia molto più comprensibile la cosa molto interessante che vi voglio far vedere è appunto questa se andiamo a vedere le posizioni dei commercial che appunto sono una categoria che utilizza i contratti future per operare sul mercato ci accorgiamo di una cosa estremamente interessante ovvero che negli ultimi nell'ultimo decennio sostanzialmente ogni volta che appunto i le posizioni nette quindi i contratti proprio di franco svizzero che hanno comprato queste questa categoria di mercato è andata in positivo ok lo vediamo come qua come qua per esempio è successo che non solo appunto il franco svizzero ha segnato un minimo importante ma è continuato a salire fin tanto che appunto i contratti non sono andati nella parte negativa quindi questa speciale categoria di investitori non ha solo smesso di comprare ma addirittura si è messa a vendere il franco svizzero ecco questo ci fa capire una cosa interessante perché esattamente come le due volte precedenti qua e qua siamo in una situazione molto interessante perché abbiamo già segnato un minimo importante sul franco svizzero proprio in concomitanza del massimo e ora che appunto le posizioni stanno iniziando a calare cosa che è successa anche nei casi precedenti è come proprio se mancasse l'ultima gamba rialzista di questo movimento prima appunto di uno storno più importante quindi anche le posizioni degli istituzionali ci suggeriscono che dovremmo essere su un minimo importante del franco svizzero che porterà appunto il franco svizzero a segnare dei rialzi nei prossimi due mesi come abbiamo visto potrebbe arrivare questo massimo importante nella prima decade di agosto io direi che vi ho fatto vedere tutto per questo mese se avete domande avete la chat a disposizione potete assolutamente scrivermi vi ricordo nuovamente che nella pagina promozioni che trovate sul sito cambiavalute.ch trovate sempre tutte le promozioni attive sul punto che vi consentono anche di guadagnare qualcosa che non fa mai male e in più vi ricordo che dall'interno del vostro account di cambiavalute oltre a fare il cambio che però abbiamo visto è meglio forse aspettare qualche mese mi odieranno i miei colleghi che prendono il bonus su se cambiano più soldi però secondo me è meglio aspettare quindi ve lo devo dire per onestà intellettuale però a parte gli scherzi c'è anche il tasto all'interno invita i tuoi amici guadagna comodissimo perché anche tramite whatsapp potete mandare direttamente un messaggio che allega il vostro codice e quindi vi fa appunto guadagnare qualora la persona a cui avete mandato procederà con il cambio avendo euro da cambiare in franchi cosa conviene fare chiaramente se hai euro da cambiare in franchi in questo momento invece conviene farlo adesso proprio perché quando il franco sale significa che è l'euro che perde valore nei confronti del franco quindi se hai dei franchi in questo momento molto semplicemente appunto se hai degli euro da cambiare basta che vai su cambiavalute clicchi su euro scegli la cifra che vuoi cambiare e noi ti diciamo esattamente quanti franchi svizzeri arriveranno sul tuo conto daniele la statistica ricalcherà il trend degli ultimi 5 10 anni nonostante il quadro di incertezza internazionale è una bellissima domanda questa daniele tieni presente che il franco svizzero beneficia dell'inter della dell'incertezza internazionale proprio perché assieme all'oro e al è comunemente chiamato bene rifugio quindi quando c'è incertezza guerra e paura nel mondo tendenzialmente i grandi investitori parcheggiano della liquidità in franchi svizzeri proprio perché la svizzera lo sapete meglio di me è considerato una nazione molto stabile massimiliano ma da cosa dipende questo sali e scendi del franco euro guarda tu devi prendere devi pensare che il cambio tra due valute è come se fosse un termometro che misura proprio diciamo gli equilibri tra due nazioni e nello specifico qui abbiamo il franco svizzero svizzera e euro europa e sostanzialmente in ogni momento è come se misurasse la temperatura questo cambio dell'economia e di tutte diciamo le relazioni internazionali che abbiamo tra questi tra questo stato la svizzera e tra quest'unione di stati che l'europa quindi è proprio come se fosse un termometro dell'economia e quindi quando è la svizzera che va un po in vantaggio sull'europa evidentemente il franco svizzero si apprezza e viceversa è sempre un equilibrio molto labile perché chiaramente è convenienza di tutte le nazioni avere una valuta diciamo un po più debole perché chiaramente le esportazioni per esempio se si ha una valuta debole vengono beneficiano e di conseguenza si muove sempre proprio per questo motivo perché cambiano le condizioni economiche degli stati che sono coinvolti in questo gioco tra virgolette allora filippo fa una domanda molto interessante se ho 10.000 franchi da cambiare mi conviene farlo in due sole sessioni oppure splittarlo in piccoli cambi in attesa delle migliori condizioni tendenzialmente filippo come dicevo prima se hai bisogno del denaro ovviamente non stare a avere l'acqua alla gola perché qualcuno su internet ti ha detto che magari il cambio il franco svizzero migliora però diciamo che se non hai bisogno di tutti questi 10.000 franchi in questo momento dell'equivalente di 10.000 franchi in euro ti potrebbe convenire magari cambiarne non so 3.000 3.000 franchi in questo momento per le tue spese per appunto i tuoi bisogni e poi aspettare appunto come ti dicevo la prima decade di agosto dove il franco svizzero dovrebbe valere di più statisticamente parlando ovviamente ragazzi siamo tutti grandi e vaccinati e questa è una previsione potrebbe essere così ce lo dice abbiamo l'aiuto della statistica di tante altre cose ma non è matematica certezza ovviamente davide sul lungo tempo 25 anni è plausibile affermare che il franco continuerà a salire rispetto all'euro troppo difficile da ipotizzare ma secondo me è abbastanza probabile questo diciamo che se andiamo a prendere un grafico proprio di lungo periodo questi sono gli ultimi 20 anni vediamo che tra alti e bassi ma dal 2008 il franco svizzero si è sempre apprezzato quindi queste sono tendenze che sono veramente difficili da invertire ok quindi vedendo un pochettino come va l'europa vedendo appunto l'istabilità che arriva sempre più vicina all'europa dal punto di vista geopolitico io sono abbastanza convinto che il franco svizzero sia una valuta che continuerà a darci soddisfazioni quindi e e